Benvenuti amici miei, ciao a tutti, benvenuti nello speciale 4.000 iscritti ragazzi Siamo arrivati a 4k subscriber, se stiamo salendo sempre ma sempre di più E oggi infatti mi vedete qua, bardato con tutta stampa radag Sembra che debba andare, non lo so, nello spazio Sembra che abbia un tostapanno in testa, lo so anch'io Ma siamo qua per giocare a Beat Saber, questo giochino in VR Come speciale 4k subscribers, 4.000 iscritti Oggi vi porto questo gioco in VR, mi è arrivato infatti il VR da poco E oggi andremo a giocare per questo speciale 4.000 iscritti Alle canzoncine dei meme che appunto ho scaricato qua su Beat Saber Questa qua è tutta la mia grande libreria di canzoni di meme Un sacco di canzoni diverse, ovviamente non le posso fare tutte in un video solo Quindi se volete vedere un secondo episodio di questo speciale Che poi non sarà uno speciale se facciamo un secondo episodio Ma diventerà un continuo dello speciale su suono le canzoni dei meme su Beat Saber Fatemelo sapere qua sotto nei commenti ovviamente Adesso io direi di non perdere altro tempo e iniziamo subito a giocare a Beat Saber Allora, prima canzone che vi propongo quest'oggi ovviamente è quella classica Quella che conosciamo tutti quanti Ovvero questa ragazzi, eh chi è che non lo conosce? Chi è che non la conosce? Jojo Iniziamo Jojo, dai! È già un casino qua ma va bene Oddio mi si è staccato, mi sono staccate le batterie dal controller ma non importa È già un casino qua ma non importa, fa niente Tutto Allora io vi dico, non sono un pro player quindi se mi vedete fare schifo sapete perché E perché, allora, e poi le canzoni dei meme che ho trovato sono tutte quante in expert Non le ho trovate più easy E quindi E perciò se mi vedete fare schifo sapete perché Perché io non so giocare in expert a Beat Saber Sì vabbè ma che è? Mastro ninja devo fare Devo diventare un taglia prosciutto anguria di professionista Un samurai Chiamatemi senpai Mastro art online Mastro art online Ma chi è in confronto a me Mastro ninja? Guardate che roba Oddio non ho missato la combo lì Ok qua ne ho missati tipo tutti Tomorrowland Dojo Dojo Jojo Jojo Eh sì vabbè Eh raga sono freddo sono freddo ho le mani fredde Ho le mani fredde ho le mani fredde Eh ho le mani fredde raga Ho le mani fredde ho le mani fredde Ovviamente ho messo il coso che non posso perdere perché sennò avrei già perso Poi dicono che giocando ai videogiochi non ti muovi Guardate vieni qua a fare Jojo Expert plus su Beat Saber Te Dai ti sfido Vediamo se non fai l'energizio e non ti muovi Bastardo Devo farlo almeno un pezzo così tutto giusto Quasi dai Dai è infattibile alla vita è infattibile alla vita dai Jojo Quanto dura ancora non mi sento più le braccia raga Poi ci fa un caldo bestiale poi ci sono 78 gradi e sono chiuso in casa a fare sta roba ma non importa Tutte le persone normali e sono con un caldo così vanno al mare vanno in piscina poi ci sono io che sto qua a fare sta roba Eccolo 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 Te Jojo E dai raga andiamo Tomorrowland Jojo In tutto ciò non guarderò mai più Giorgio dopo aver giocato a sta roba perché è un incubo Ho perso le braccia Eh vabbè sì domani Che cazzo è? Eh Mastro Ninja taglia il buia Wow non ho missato la combo finale Wow Joe Joe mamma mia regà quanta qualità Ah le braccia le braccia oh ne ho missati solo 200 dai non ho neanche fatto così schifo Prossima canzone ovviamente non possiamo abbiamo fatto un video tutto su Putin abbiamo anche Putin qua ma Putin lo lasciamo poi più avanti Abbiamo fatto video sulla Coffin Dance manca soltanto Riccardo raga e diamoglielo un po' di soddisfazione a Riccardo Milo sai che cavolo dai Vieni qua iniziamo iniziamo In confronto a Giorgio di prima questa sembra lentissima Wow Mastro Senpai Ninja Ovviamente la canzone You Got That ragazzi ci siamo ci siamo In confronto a quella di prima sembra lentissima Mamma mia le ho missati quei due Ah e poi dicono che non faccio esercizio Si le ho missati tutti qua Oh right you do you got that something that I need in my life Cause you got that Chi guarda questo video senza sapere a cosa chi mi vede Se qualcuno entrasse in camera raga Penserebbe che io sto in un epiletti con qualche grave problemino alle mani Chiama all'800 96 56 06 e con 9 euro al mese sostieni la fondazione Teleton Che esiste per loro e che finanzia ricerca su queste malattie terribili rare e dimenticate Ce la facciamo superare un altro 100 di combo Non può finire adesso 98 ti prego ancora due cubi Ancora due cubi ho fatto 200 Olè guardate le skills raga Come si balla Si Olè 106 combo Ne ho missati meno di 100 ma son fortissimo Andiamo Oh you got that Grande Riccardo Prossima canzone che direi che mi sembra d'obbligo da fare Dopodichè abbiamo il top per concludere il tutto E ovviamente scusate astronomia la devo mettere da parte perché devo fare spazio a Shrek Ovviamente che poi guardate l'immagine c'è Linus The Linus Shrek Tips c'è scritto ma non importa Mi dispiace Linus ma sei diventato Shrek Andiamo a giocare a All Stars E iniziamo dal Linus Shrek Tips Ok Shrek I love you usappilo Chi è che non ama Shrek raga Cioè Shrek è la vita Sappiatelo Olè 100 di combo Però siamo full combo Si siamo full combo per ora Non ne ho missato manco uno Adesso ovviamente ne misserò 78 E infatti Ehi oh No 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 Ehi Ehi oh No 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 Per tutti gli amanti di Shrek Ehi oh No 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 Ehi Ehi oh Mamma mia raga Oh Mi son dato una manata sui coglioni Ah che male Non importa Devo continuare Mi son dato una manata Dove la manata non doveva andare E' quasi finita Shrek E io qua dentro Sono sudato Come Mamma mia Oh non mi sa di meno di 40 Mi sento potente Concludiamo il video Con una mega ultimate mashup Di meme Trovato Tutto basato sulla coffin dance E ovviamente expert plus E' super veloce Sembra easy Ma è stra veloce Ovviamente io misserò i tre quarti dei colpi Ma perché si Perché ovviamente io non so farlo Posizione ninja Maestro sensei Guardate le spade Eh questo è FNAF Vediamo se riconoscete tutti i meme Scrivetemi tutti i meme che sentite in sta canzone qua sotto nei commenti Vediamo chi nazzecca di più Eh già partiamo malissimo Io ovviamente giocherò con voi Cercherò di trovare tutti i meme C'è un casino indegno Si va bene Ok Shrek Shrek e coffin dance insieme Shrek e coffin dance insieme Va bene Ok questo qua è come si chiama Ok Ok Sì Sì vabbè Jack Sparrow Eccolo Eccoli i pirati che arrivano I pirati Cioè ho sentito uno spongibob ma non mi importa Sto perdendo le braccia Domani mattina mi sveglio Domani mattina mi sveglio Son the rock Turuturu Turuturu Non mi sa di tipo tutti lì Questo è PewDiePie PewDiePie Ciao Ho male alle braccia indegno ma non importa Oh posizione ninja Che male alle braccia regà Domani mattina ho perso le braccia Questo qua non so cosa sia Non so cosa sia questo meme Ok Dai che Li sento Li sentite anche voi La coffin dance Incombe su tutti coloro Che non sono ancora iscritti al canale E li sta venendo a prendere Li stanno venendo a prendere Voi tutti che state guardando il video Che non siete ancora iscritti Vi stanno venendo a prendere loro ragazzi Li sentite Mi sento un DJ a giocare così Tonno Ah ma un misto Non è la coffin dance basta Perché c'è PEP PPAP come si chiama Pan Pan Apple Apple Pen Eh sì tre quarti non mi stati qua Sì domani Giorgio No non è Giorgio Che è sta roba Ah no è Spooky Skeleton Dovrebbe esserci anche Giorgio Presumo di sì Ora io ragazzi ho perso le braccia Eccolo Giorgio Ho perso le braccia Io ragazzi ho un malindegno Tu 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 Ecco Giorgio che arriva Non mi sento più le braccia Non mi sento più le braccia Ah Eh sì Minecraft Pure Minecraft c'è Ho sentito una porta a chiudersi Baby tonight DJ's go Ok Sto morendo Tu 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 Eh I'm blue È un insertion sta roba Pure PewDiePie Bitch Lasagna Wow Guys Mamma Mamma mia Ne ho missati 164 Dai Sono stato pure bravo Wow Raga Mamma mia Qua dentro Sono sudato con una roba indegna Non c'è modo migliore di concludere questo video Se non con questo Grazie di cuore a tutti quanti ancora ragazzi Per i 4000 iscritti ragazzi Per me questo qua non traguardo Veramente incredibile E ragazzi Punto ai 5k Entro un anno di canale Che sarebbe Il 3 agosto Quindi Se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi qua sotto al canale Attivate la campanella delle notifiche Lasciate un bel like Sotto a questo video E soprattutto Condividete il canale Con tutti i vostri amici Che non sono ancora iscritti al canale Pure con nonne, zii, cugini, parenti Perché dobbiamo arrivare ai 5000 iscritti Entro il 3 agosto E se continuiamo di questo passo Ce la possiamo fare Credo in voi ragazzi E detto questo Come sempre non aggiungerei nient'altro E noi ci becchiamo come al solito Ad un prossimo video Ciao ragazzi